Tribuno Sonera, amiche amici del Marietto, buon sabato a tutte e a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento col vostro Marietto Milanista. Oggi mi vedete bello rilassato, sereno, ho avuto uno dei miei ritiri di meditazione buddista, molti di voi lo sanno che sono vent'anni che pratico buddismo e quindi un po' di pace, un po' di gioia per prepararsi anche in una forma un po' più terra terra a questo importante incontro che domani vedrà di fronte il Milan contro il Verona di Ulrich, una squadra veramente tosta che in parte può ricordare il gioco stesso del Lille, quindi può essere molto molto pericoloso e allo stesso tempo può essere anche un vantaggio se abbiamo saputo adesso prendere in questi giorni le misure di sicurezza contro questo tipo di squadre che comunque sanno giocare al calcio e comunque giocano sempre in superiorità numerica, un pressing alto, quindi bisogna stare molto molto attenti domani, è una partita difficilissima però la affronteremo domani, appunto prima della partita, nel post partita, domani ci dedicheremo solo a Milan-Verona, però oggi quello che più mi ha un po', diciamo, le tre notizie che più mi hanno scosso adesso, diciamo, la mia fantasia, una inizia con tagliavento, ma ve lo ricordate quell'arbitro di Milan-Juve che annullò quel famoso gol di Montari che la palla era entrata un metro e mezzo e che il grande sportivo che dava del, come diceva, all'arbitro con Real Madrid che aveva un sacco di immondizia nel cuore, una cosa del genere, no? Che dovrebbe andarsi a mangiare i frutti, a bersi il fruttino, mangiare quelle cose, la gliccia buffona. Ecco, lo stesso signore, quel giorno là, la palla era entrata un metro e mezzo e la sua onestà dov'era. Beh, il signor Tagliavento dopo tanti anni ammette che fece un errore clamoroso quel giorno e che se ci fosse stato il VAR, molto probabilmente questo non succedeva, c'era bisogno del VAR, siamo sicuri? L'avevo visto io dal secondo anello, dall'altra parte, che la palla era entrata un metro e mezzo, 80.000 si erano già alzati a San Siro perché la palla era entrata, solo Tagliavento non l'ha vista. Vabbè, ditemi voi che ne pensate nei commenti in basso, come sempre, a parte il like di supporto, se ormai viene like di iscrizione, non so perché, like di supporto, iscrizione al canale per chi ancora non l'avesse fatto, mi raccomando, con campanella inattiva e like di supporto, e ciao, buonanotte ai suonatori, oggi veramente sono in uno stato proprio buddico e condivisione nei vostri social. Ma passiamo poi a quest'altra notizia, ricordandovi che ho anche il mio gruppo di Marietto Milanista in Facebook, Instagram e Planeta Libre TV che è l'altro mio canale che poi, appunto, se tutto questo vi interessa, link in basso in descrizione. Dunque, 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 la situazione Gigio a Cannes. Allora, è una situazione che chiaramente i giornali periodisti, come dico qua, i terroristi giornalisti, quello che fanno oggi, chiaramente, cosa c'è? Milan-Verona domani? Io me lo aspettavo, per quello che l'ho voluta dire sta notizia. Io aspetto il giorno prima per dire, vediamo cosa tirano fuori adesso sul Milan. Allora, la notizia è la seguente. Chiaramente c'è un discorso che si sta complicando, secondo, appunto, certe testate per quanto riguarda il rinnovo tanto di Gigio Donnarumma che di Akan Cialanoglu. Uno prende 6 milioni, l'altro 2,5 e sembra che Raiola ne chieda 10 per Gigio e Stipic, che è il procuratore di Cialanoglu, addirittura ne pretenda 6, cioè più del doppio. Allora, innanzitutto Akan Cialanoglu è diventato un perno del Milan fondamentale, imprescindibile probabilmente in questo momento, però da dopo il lockdown, cioè prima era un giocatore normale. Vuoi dargli un adeguamento del contratto? Mamma, grande grande, ti do un milione in più, arriviamo a 3,5 e bonus. Ma quali sei? Gigio uguale. Vuoi arrivare a 7, 7,5? Io a questo punto avrei tolto anche il milione di Antonio Donnarumma, lo avrei aggiunto al fratello, più bonus, 7 più bonus. Ragazzi, non bisogna, a mio avviso, farsi prendere per, come si dice qua, il mango dalla parte, come si dice in italiano, cioè avere il coltello, ecco, il coltello dalla parte del mare, in italiano tante cose non mi vengono più, già lo sapete. Ragazzi, 14 anni in Spagna, purtroppo, è così. Quindi, in caso però di una soluzione del contratto, si parla che potrebbe arrivare addirittura fino al 30 giugno 2024, cioè sarebbe rinnovato di quattro anni per tutti e due i giocatori. Però, attenzione, qui dalla Spagna, il quotidiano, comunque, una rivista, si chiama Defensa Central, parla di un Real Madrid che ha già mosso i primi passi per farsi gioco di tutte e due, tanto di Gigio Donnarumma che Cialanoglu. Però a quale condizione? Che i due procuratori facciano arrivare a scadenza i due giocatori senza rinnovo, cioè quindi a zero. E quindi sarebbe disposto poi Real Madrid a pagare la somma che chiedono, appunto, gli agenti. 10 milioni per Donnarumma e 6 per Cialanoglu. Questo è quello che riporta Defensa Central. Allo stesso modo c'è a dire che Real Madrid per il prossimo anno, il sogno non nascosto, qui sono proprio i due giocatori Mbappé e Haaland. E non mi sorprenderebbe che almeno uno dei due arrivasse. Florentino Perez potrebbe portare appunto quest'offerta pur di accaparrarsi anche i due giocatori del Milan facendo già addirittura un precontratto già da gennaio, se riescono appunto i procuratori a portarle a zero. Questa è una notizia sicuramente interessante che potrebbe assolutamente fare, traballare la trattativa. Però, ripeto, vediamo anche la volontà dei due ragazzi. Poi l'altra notizia, poi appunto anche in questo fatemi sapere voi cosa ne pensate, io credo che, già vi ho detto la mia opinione, non facciamo il gioco dei procuratori. Loro sono proprietà del Milan in questo momento, quindi non scherziamo. Ma l'altra notizia è che il giocatore che ci ha purgato l'altra sera per ben tre volte, una forma impressionante, stiamo parlando del turco Yazici, non sarebbe la prima volta che il Milan fosse interessato in un giocatore che ha giocato contro di noi, che sia in Europa League o in Champions, anche nel passato, per andare a bussare alla porta per portarlo appunto a Milanello. Infatti, dopo Auge, non ultimo, sembra che il Milan avesse già sul tavolo dei nomi da poter, diciamo, visionare per un prossimo futuro proprio il turco Yazici. Ricordiamoci che da lì là sono arrivati negli ultimi due anni Leao al Milan, Osimè anche al Napoli e, ragazzi, c'è un giocatorino lì, un certo Sanchez. Cioè, ma l'avete visto l'altro giorno che Numerini faceva il ragazzo, il Renatino Sanchez, che era, non so ancora, e questo non l'ho ancora investigato però, della trattativa del Bayern Monaco, cioè della proprietà del Bayern Monaco. E non si sa appunto se poi se lo riprenderà, ma è un gioiello. Io punterai su quel giocatore. Se dovesse andare a comprare qualcuno, mi andrei a comprare Renato Sanchez, ma alla grande. Ma quello lì, ragazzi, ha dei numeri, fa paura. Quindi c'è questo Yazici, che è un classe 93, ha 27 anni, quindi, che sembrerebbe, secondo il profilo di quello che in questo momento potrebbe servire al Milan, potrebbe giocare da trequartista, da centrocampista, da esterno di destro d'attacco. Diciamo un jolly che potrebbe, sicuramente, fare comodo. Io non so cosa pensare sinceramente, perché parlare di mercato in questo momento a novembre è bello, è sempre bello sentire che si accostano al Milan certi giocatori, e meno bello quando invece pensi che alcuni se ne potrebbero andare. Però è normale che si comincino già a ventilare certi tipi di trattative, anche perché si sta parlando di giocatori in scadenza, ma in scadenza 2021, giugno. Quindi adesso sicuramente si entrerà nel caldo di certe trattative e deve essere fatto assolutamente prima di gennaio, perché se no veramente c'è il rischio altissimo che li perdiamo a zero. E soprattutto per Gigio Donnarumma, sarebbe il peggiore, diciamo, dei peggiori o delle peggiori cessioni che il Milan avrebbe potuto fare in vita sua. Cioè, un giocatore nato nel nostro settore giovanile, senza plus valenza, senza niente, ma a darlo via a zero. Un giocatore che vale, a mio avviso, come portiere, almeno 70-80 milioni. Anche perché io rimango in queste cifre. Non puoi ne chiedere né di più né di meno. È un giocatore che sicuramente sta dimostrando, ha dimostrato in questi anni, però neanche esagerare poi più di tanto. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate a questa vigilia anche di Milan-Verona. Come vi sentite? Come state? Qual è il vostro pronostico? Dai, vediamo chi mi lascia qua sotto il pronostico di domani sera, così vediamo anche chi è arrivato alla fine del video. I soliti trabocchetti del Marietta. Niente, ragazzi, io vi saluto dalla beatitudine qui della sala di meditazione oggi, che veramente è stato un giorno di tranquillità, di pace. Adesso andrò di là, tranquillo, cioè, tornerò a casa. Sarà una serata molto tranquilla, quindi mi preparerò domani a Milan-Verona in una forma molto molto rilassata e spero di rimanere ancora più rilassato a fine partita. Prima che poi, dopo neanche mezz'ora, mi salta l'adrenalina. Mi devo fare un'altra due ore di meditazione. Niente, ragazzi, vi saluto con un po' di buon govara. Come sempre, con il mio cuore rosso-nero, forza Milan ovunque e comunque. Ci vediamo domani. Buona serata. Ciao, ragazzi.